il noto scrittore napoletano si espone per il conduttore di che tempo che fa lasciandosi andare a una pesante polemica l'addio di fabio fazio alla rai è un argomento che sta facendo particolarmente discutere dopo 40 anni di sodalizio con la tv di stato il noto conduttore di che tempo che fa lascia quello studio e anche un po di amaro in bocca questo almeno per roberto saviano quest'ultimo con un lungo messaggio condiviso sul suo profilo ufficiale di instagram svela la sua versione inedita sul divorzio avvenuto tra fazio e rai un lungo messaggio che fa riflettere e che probabilmente svela una parte della verità su questo rumorosissimo addio dopo l'ironico intervento di fiorello a viva rai 2 ecco che cattura l'attenzione quello di saviano fabio fazio lascia la rai scrivono non è così fabio fazio viene cacciato dalla rai questa è la verità così il famoso scrittore napoletano inizia il lungo discorso il giornalista fa notare come fazio abbia sempre svolto il suo lavoro come pochissimi professionisti avrebbero saputo fare ebbene a detta di saviano il conduttore di ctcf sarebbe stato cacciato dai pianti alti della rai perché del suo spazio questa destra xenofoba ha bisogno tanta rabbia da parte dello scrittore il quale crede a questo punto che il governo abbia come obiettivo non quello di imporre la sua egemonia culturale ma solo la sua egemonia e così il giornalista si scaglia apertamente contro chi attualmente governa il nostro paese e il dietro le quinte della rai senza lasciare spazio ai dubbi di culturale questa destra xenofoba non ha proprio nulla evidentemente sono state troppe le promesse fatte in campagna elettorale e ora vanno mantenute ritrovale ritrovale ritrovale